Era appena sbarcato nel porto di Bari dalla motonave Superfast 1 proveniente dalla Grecia, un bulgaro a bordo della sua autovettura, quando è stato fermato per un controllo dai finanzieri del comando provinciale Gruppo Bari. Sono stati così rinvenuti abilmente occultati, in parte all'interno del cruscotto ed in parte allo schienale del sedile posteriore, le componenti di un artigianale ma efficace sistema elettronico di ultima generazione, che mimeticamente installato sulle postazioni Bancomat di istituti di credito, avrebbe consentito di carpire dati e codici PIN e di tessere Bancomat e carte di credito dignari clienti. Lo scopo del responsabile, un cittadino bulgaro di 25 anni, segnalato alla locale autorità giudiziaria, era quello di posizionare l'apparecchiatura sui due sportelli Bancomat e una volta memorizzati i dati sensibili, procedere all'illecito prelievo di contanti.